Benvenuti nel mondo degli orologi Pierre Kunz. Pierre Kunz è un marchio svizzero di orologi di lusso. Grazie alla sua straordinaria maestria artigianale, alla creatività e all'utilizzo di movimenti svizzeri di altissima qualità, l'azienda si è guadagnata una reputazione internazionale come uno dei marchi di orologi di lusso più prestigiosi al mondo. Gli orologi Pierre Kunz sono caratterizzati da un design unico ed elegante che combina elementi classici e moderni. Ogni orologio è realizzato con materiali di alta qualità, come l'oro 18 carati, l'acciaio inossidabile e il titanio, e presenta finiture impeccabili. I quadranti sono spesso decorati con numeri romani, indicatori luminescenti e dettagli in cristallo zaffiro. Grazie alla sua attenzione ai dettagli, Pierre Kunz è diventato sinonimo di eleganza e stile. Uno degli aspetti distintivi degli orologi Pierre Kunz è l'uso di movimenti svizzeri di altissima precisione. L'azienda collabora con i migliori fornitori di movimenti svizzeri, come la Manufacture Vauchet e la Manufacture de Autorlogerie Suisse, per garantire la massima precisione e affidabilità degli orologi. Inoltre, molti modelli presentano complicazioni come cronografi, calendari perpetui e fasi lunari, dimostrando la maestria tecnica dell'orologiaio. La gamma di orologi Pierre Kunz comprende modelli per uomo e donna, con opzioni che spaziano dalle linee classiche a quelle più contemporanee. Molti modelli sono disponibili in edizioni limitate, che li rendono ancora più preziosi e ambiti dagli appassionati di orologeria. Gli orologi Pierre Kunz sono una scelta eccellente per chi cerca un orologio di lusso unico e di alta gamma.